Giocheremo, giocheremo la Champions League e voi la Serie B e noi la Champions League e voi la Serie B Giocheremo noi la Champions League e voi la Serie B e voi la Serie B Siamo arrivati tanto così da strozzarci l'urno in gola Ma perché se Calulu ha fatto una stagione di merda, perché Calulu effettivamente ha fatto un campionato da difensore del Foggia Stasera Calulu si è fatto perdonare Ora, si è fatto perdonare Parolone, però Calulu stasera bene o male Bene o male Si è fatto rimbalzare addosso, non lo so, con la forza trascendentale del magnetismo Non lo so la palla che non ha fatto fare gol alla Juve per farle 1-1 Gol che probabilmente avrebbe cambiato le cose Perché certo, stai vincendo una partita e ti manca un minuto per vincerla Farebbe molto male, ma che comunque anche un punto sarebbe bastato per poter arrivare all'obiettivo Che, strano a dirsi, ma fino a tre mesi fa Anzi, anche di più Perché insomma è da inizio stagione che il Milan Io dico che si qualificherà in Champions League È da inizio stagione, dalla partita contro Anzi, neanche, dal derby di andata che dico Che il Milan in Champions League ci arriva Non sappiamo come, però ci arriverà È stato più duro del previsto Senza la penalizzazione da Juve non sarebbe stato possibile Anche se comunque devono giocare contro Udinese e contro Perona Nel caso loro pareggiassero, per te, se non si vincesse Anche sul campo non abbiamo più la qualificazione di cartone Mettiamola così Analisi della partita Analisi della partita molto schietta Il Milan la prepara bene Ha anche parecchio culo perché ha molto culo Messias tra i peggiori in campo perde 3-4 palle bestiali Che se ci fosse stato qualcun altro al posto di Rabiot Che stranamente stasera non era in forma O meglio, non era in una delle migliori forme avute quest'anno Avrebbe potuto far parecchio male Però la fortuna va da chi è cercata Giroud fa una torsione pazzesca Fa un gol che, vabbè, gol di 3-6 di Giroud Però gol di 3-6 di Giroud fallo così Vai e fallo Vai e fallo perché ha fatto veramente un gran gol su un gran cross di Calabria Ovviamente perché quel mongolo di Messias Quei cross lì non ne mette manco a pagarli Ecco, concentriamoci adesso sul mongolo di Messias Perché se ho detto che Krunic è stato il peggiore in campo Mi devo un attimo di credere e dire che Messias ha giocato peggio Infatti per fortuna Pioli l'ha capito questa volta per tempo Era tolto al 55esimo Perché Messias stasera ragazzi è stato irritante Io ho a mente questa scena nel primo tempo E Minan che si disimpegna Messias da solo Tonali ha forse 3 metri Dall'altra parte a 50 Leao Poteva fare quello che voleva Cioè era giusto chi era Forse Danilo 3-4 metri Sulla sua destra Passaggio corto, passaggio lungo L'azione sarebbe ripartita lo stesso Cosa fa lui? Lancio lungo per Leao La falla in rimessa laterale Quella è stata la fotografia Che mi ha detto che Messias Che già Non ero d'accordo sul suo acquisto Ha proprio fatto cascare le palle Sono stato poco d'accordo Anche sul fatto di togliere Leao per il finale Ora non so se avessi problemi fisici Appureremo Ma non credo Ok che va difesa però Metti, balloture Quando sai che la Juve va a spingere Io pensavo a togliere Seternavitz Poteva andare peggio Però secondo me uno come Leao Lo tieni lì Un paio di contropiedi che abbiamo avuto Secondo me Leao Avrebbe fatto anche parecchio comodo Detto questo ragazzi Due partiti su due vinte con la Juve Non succedeva da Io credo fosse la stagione 2009-2010 Che non si vincesse Andate e ritorno con la Juve Perché l'anno che si vince lo scudetto L'anno dopo Nel 2010-2011 Perdemmo l'andate e vincemmo a ritorno E poi dopo c'è stato il domino a Juve Quindi O le vincevano tutte e due O se le vincevano una Come l'anno del gol di Locatelli o di Robigno L'anno scorso due pareggi Abbiamo triunfato Però comunque due pareggi Quest'anno Andate e ritorno con la Juve 3-0 complessivo Tutti a casa Siamo più contenti Siamo più Alleggeriti stasera certo Perché comunque È stata una partita Gestita Con diversi cardiopalma Però comunque Gestita benino E Comunque rimane il fatto E di questo volevo affrontare L'argomento con voi adesso Che il Milan Ufficialmente è quinto Perché sul campo è quinto Ciò significa che Il Milan Deve valutare il suo lavoro Economicamente come quarto Ma Qualitativamente parlando come quinto Io ho fatto un discorso All'inizio live Domani la vedrete recappata Quindi sicuramente Mi vedrete ogni dubbio Però Quello che mi sento di dirvi È che Pioli Secondo me È arrivato E ha fatto Ha fatto quello che poteva fare E ha fatto Molto di più di quello che poteva fare E anche di quello che Gli era stato chiesto di fare Però è ovvio che Una tifoseria come il Milan Raggiungi obiettivi che Ti ha raggiunto Pioli E tu vuoi di più Perché se tu Vengi uno scudetto È ovvio che tu lo rivolgiano dopo Perché io Sono ancora convinto che il Milan Non è stato miracolato Perché se fai 86 punti E vinci un campionato Non è che l'hai vinto con 40 punti L'hai vinto con 86 Quindi vuol dire che Bene o male E tu lo hai fatto Se poi sei stato Un suicidio sportivo dell'Inter Questo è un altro discorso Però Il Milan L'anno dopo Vuole uno scudetto Vuole la seconda stella Vuole il bis Scudetto che poi Non avremmo mai potuto vincere Però il Milan Sicuramente 10 punti in più Poteva farli Avrebbero portato lo scudetto Qui 10 punti in più Certamente no Però sono punti Che oggi dici Cazzo mi mancano Tu potresti festeggiare La qualificazione in Champions Nella partita con lo Spezia O con la Lazio E magari giocare Una semigna di Champions League In maniera diversa Puoi fare diverse cose Siamo arrivati Per il rotto della cuffia E va bene così A questo punto Io però mi aspetto Una risalita Dal punto di vista Della società E del gioco Perché io Ho già detto Ai tifosi Ai miei follower Ai miei amici E tutto quanto Che io Un altro campionato Così Non lo voglio passare Perché nessuno Mi assicura Che prossimano L'Inter Rifarà 12 sconfitte In campionato Che sono tanti Hanno perso Più partite di noi In campionato Nessuno mi dirà Che la Roma Riandrà in finale D'Europa League O di Champions League Perché se la vincono La giocano E allora Perdirà diversi punti Perché deve tenersi Per l'Europa League Nessuno me lo dirà Che l'anno prossimo Toglieranno Altri punti Da Juve Nessuno mi dirà Che l'anno prossimo La Talanta Sarà così sfigata Da perdere così Tante partite Perché comunque Quella è una squadra Che non ho mai escluso Quindi caro Milan Devi un po' Pararti il culo Prima sul mercato E poi magari Dal punto di vista Del gioco Perché Pioli Ha dei limiti E più di quello Tante squadre Soprattutto quelle Che stanno in basso Hanno imparato Che ti possono Girare Empoli, Bologna Spezia Cremonese Tutti quanti Hanno imparato Che ti possono Girare Hanno trovato Il modo E quindi Il prossimo anno O cambiamo modo O cambiamo modo noi Inciso finito Tornando alla partita Il migliore in campo È Girù Toccato una palla Ma è stata quella Tolto lui Grandissima prova Della difesa Di Tomori Di Fernandez Di Calabria Anche Di tutti quanti È vero Che come si dice sempre Abbiamo beccato la Juve In un momento no Nel momento in cui Sono veramente Con morale sotto i tacchi E magari Senza la penalizzazione Questa partita Sarebbe andata in maniera diversa Probabilmente Non lo so Fatto sta che domani Esce il video Domani esce la live reaction Domani lunedì Quindi esce anche CTA5 A mezzogiorno Rimane Una partita di campionato Poi sarà pausa estiva E faremo anche Un Vi dirò Cosa succederà Quest'estate Tutto questo ragazzi Bacione Sempre Forza Milan Finalmente Torno a fare un video Col sorriso Dopo veramente Tanto tempo Penso sia dalla partita Di ritorno con Napoli Anzi neanche Perché sapevo che Andavo a giocare Ma semifale con l'Inter Quindi è stata un po' diversa Lì però Se veramente Me la passo col sorriso Stasera sono contento 2 su 2 con live Non si faceva da un bel po' Quindi ragazzi Che dirvi Un bacione E alla prossima